Buona visione! L'anno scorso abbiamo avuto l'esperienza giapponese, quest'anno abbiamo l'esperienza con la traduzione. Le odio tutti, è incredibile. Così tanto. Goccia, goccia! Goccia, cavat lapidem. Come on, Kips, queste battute le capiscono tre persone. Yeeeey! Ci sta provando il tizio in mezzo, non capisco. Mi piace il design dei personaggi, sembra che hanno un po' di carne sulle ossa. Sono l'opposto di Code Geass. Oh no, le ragazze a cavallo! Ok, prendete quello e mettetele nel loop, ed è come mi sento al momento. Piscia? C'è l'uomo che pisce ed è un boss! Reverse a Kashyyykverse Pandemonic Nightmare. Se vuoi più toho nel tuo toho abbiamo questo. Fall Guys? Oh god, ok. Guardalo che showman! Uma Musume, yes! Avevo un'immagine divertente a riguardo. Cosa? Così appartamente lo dicono? Come Lethal non giochi in borsa? Guarda, stonkso così tanto. Super Drink Bros? Nell'universo di Pepsiman. Questo è Babylon's Fall. Ah, questo era quello con l'ASMR l'anno scorso. Oh, c'è ancora? L'ASMR? Oh no, è quel gioco che ha tutto. Il pollo come il pollo. Oh, no, ho fatto Pokémon. Con le pistole! Il mitra! Akira con il lupo! E cosa servono i Pokémon se c'è il mitra? No! I Pokémon scherzati che fanno le pistole! Palmo! Non c'è niente di palo in sto world! There is no game! Me-chan! Me-chan! L'ho trovata l'immagine! Ken Uma Musume marry human! Possible! Posso spoilerartela io, la sfina di Breath of the Wild 2. Battono il cattivo e non trombano! Oh, Zimomo adora ste cose. Devo uscire dal gioco per... Per... Devo uscire... E poi muore. Oh no, c'è Zimomo! Oh no, sono le Uma Musume ma... Bambine? Oh, God. Oh, mi piace! Penso che ho più di 50 game che voglio comprare ora. Sì? Sì! Posso lasciarli? L'ha svergognato tantissimo. No, 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 non parliamo di Uma Musume. Clone Drone in a Danger Zone. Dark Seeker. Seeker of Darkness. Look, Tsukisei. Ho-ho! Fate Grand Order. Su-kip! Su-kip! S-kip! Eden Schemata. Oh, farima con Automata! Zimomo! No, fuck! Non so, man. Pagare per ASMR è come pagare per il porno. C'è così tanta roba gratis su internet. Dico così, poi mia figlia vorrà fare l'ASMRista da grande. E dovrò supportare l'industria. Si chiama Entertainment Simulator, questo? Ed è un gioco cinese. Che padre, beh. Non posso fare battute. Dov'è lo Switch Shop? Io vedo solo Free Boobies. Dove sono i dolcini? Do not buy this game. No! Vabbè. Mi sentite ancora? Yep, yes, 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 yep, yep. Siete proprio solo dei Yes Men Chat. Vergognatevi. Ok. Ok. Crazy laundry game. Don't hit mom with dangerous? With dangerous calls. Feed my fish make aquarium. Is it possible to feed fish? Possible. Serve un reggipetto a quella tizia. Vabbè, non c'è tempo, immagino, mentre sta morendo. La confer... E tu sei bella come sempre. Aspetta, spero che... Polonia e i suoi due giochi comprate le nostre azioni. Infatti vedi, Drago, quando provi a fare il simpatico con me non funziona. Allora, sarò, metterò su il... Ma tu sei simpatico, non ci devi provare. Oh! Perché quell'uomo ha il simbolo della Trinacria sul PC? Oh, God. Eeeh. Palesemente Half-Life circa. Se è circa non è palesemente. C'entra ancora Cthulhu? Non è che ogni cosa è Cthulhu. Ah, ma c'era un portale? C'è, perché... Non so, Cernobil credo che non ha aperto portali. Non è Scarlet Nexus, o sì? Non credo. Ah, sì, forse sì. Davvero non è Scarlet... Ok. Ma Kenya, no. Kena. 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 È uscito? Kena, è uscito. No, 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 è uscito ad Agosto. Funko Pop lo accetto solo se sei un... Un nerd principiante. Ricordatevi che Letto non ha mai ragione. A parte quando c'è da prevedere che il Monster Hunter muore. Esagoni. No, che so. Questa è il Pentagoni. Sono esagoni. No, sono esagoni, sì. Drago, non mettermi i dubbi in testa. Già sono stupido. No, sono pentagoni! No! Uno, due, tre, quattro... Sono sei! Sì! Ecco, uno, due, tre, quattro, cinque... Ah, ok, è vero. Drago, sono sei, smettila! Io ho fatto il classico, va bene. Anch'io, va fino a sei so spuntare! Un grande magico Kraken con Big Dad Energy. Questo game è un... Big Dad Energy? Cosa vuol dire Big Dad Energy? Ok, Act Two Long Again? Era un Kraken, non è che può forse Act Two. Ok, sì, Act Two. Come l'ultima? No! Ma che schifo di mondo! Lo sapete già che il boss finale è il vostro cucciolo cresciuto, ma cyborg? Pro-pro-mer-the-game, ma che è? Ci ho messo un po' a capire cosa avevi detto, Drago, avevo capito qualcos'altro. Ma se vi capì... Te lo scrivo perché non voglio ripeterlo. Ok, neiii... Cosa, Lethal, cosa? È possibile, credo? Un uomo che rischia di perdere tutto, parte per un viaggio, alla ricerca dell'unica cosa che può salvare la sua amata. Sei, Act Two-lo! E' uno Cthulhu con Big Dead Energy. Ah, questo è un altro gioco dove fai cose per la moglie. Ok, ok, stavolta non Cthulhu. Aspetta, non è possibile! Ma tu sei... Sì, sono io, Cthulhu, va bene, l'abbiamo capito. Questo è solo un tizio che sceglie il suo fetish. Come voglio che ritorni mia moglie? Può essere una succube, una zombie, una pianta... Live in Dungeon. Grazie per la donazione, raga! Ora sono in una vasca da bagno ed è legale perché Twitch è strano e vuole i soldi e basta. Ma tanto di te Elden Ring, Elden Ring non ci sarà stasera. Io lo sto guardando sto evento per Elden Ring. Fai male. Se io fossi Phil Spencer di PlayStation, che non esiste perché Phil Spencer è di Xbox, ma se io fossi Phil Spencer di Xbox, farei carte false per avere il trailer di Elden Ring. Se annuncia una persona 3 per PC, il resto dello stream da quando lo fanno in poi sarò io che dico baby 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 baby. Che sorpresa c'è Kojima! Adesso comincia... When you walk away, can you hear me say... Oh baby 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 baby... Oh guarda è Metal Gear. Devi pensare fuori dalla scatola. E ora è un gatto. È Labo, no? Lo intendo Labo. Direc... Ok. 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 Jeff Goldblum che dice Chaos Control sarebbe il massimo. Sono io, l'internet sto reagendo male. Questo è il tipo di... Oh guarda Bloodborne. Ryan Reynolds? È un po' meglio di Zai Vin Diesel? No! Che ninja! Oh! No, ci sono tutti gli stream! Ci sono tutti, letta. Ci sono tutti gli stream! È il film più woke dell'estate. Se non erro, ci sono i drop della maschera di Geoff. Intendi drop dei frames? Randorq, state zitto, ho droppato zero frame finora. Alla faccia tua e alle chiappe tue. Un FPS senza nemici. Rivoluzionario. Fate vedere Sonic. Ron, che succede? Chi ti ha preso la tastiera? Ho sentito Super Sonic e pensavo a Super Sonic. Ha detto literal Super Sonic e pensavo a Super Sonic. Invece no, è solo un'auto veloce. È uscito un mezzo Waluigi anche. Oh my god, un gioco sul piccolo principe! Un DLC per Sky. Fuck off. Ok, non è un gioco triste. Vabbè, il gatto morirà, però non è un gioco triste. Overwatch è famoso per i video, azzuzzi. Yo! Paladins? In che anno siamo? I fan Nintendo. Beh, ovviamente non ci sarà il Nintendo Direct ora. Illusi. Fanno la roba di Sonic e poi dice In Sonic ci sono molti anelli, ma c'è un anello molto vecchio di cui volete sentire parlare, vero? E poi è un picchiaduro del signore degli anelli. Ma sì, boh, questa è musica che tipo mentre fai vaping l'ascolti magari. Altrimenti no! No, è vero che c'è ancora Esposito. No, devo dire Esposito, per cringiare la gente. Vorrei tantissimo che lui dicesse il suo cognome e dicesse Esposito. Non mi interessa del videogioco, non mi interessa di cosa sta dicendo, non mi interessa... Voglio solo che dica Esposito. Sì, ora sono trombabili i fall, guys. Io mi ricordo solo la versione stonata di questa. Filso è un grettino! Ma sì, Game of the Year, abbiamo capito. Faxabacu! Ho questa immagine che i fan di FromSoftware sono tutti molto narcisisti e pretenziosi e non voglio leggere i loro commenti, però farò uno sforzo per voi, va bene. Naturalmente in Svizzera è Gesù in trending. Elden Ring, distruggimi! Oh my god, voi capite? Elden Ring, mi sono fatto la pipì addosso. Mi si è rotto il pisello. Ecco, queste cose non le voglio vedere! A volte mi sento un idiota a paragonare questo tipo di giochi a, non so, i giochi Nintendo. Perché non c'è paragone, mi sento tipo un bambino di due anni. Tipo, questi giochi sono esperienze spirituali, mentre Mario è solo... Uhu, uhu, bam, bang, bong, wuhu! Vive il vaso! Il vaso con le braccia! L'unico personaggio che ha fan art finora, vorrei dire. You'll find out... Who Opal is soon. Ok, mi hai risposto alla domanda. Io non volevo farlo l'11 giugno. Ma no, letto al Koch Media traducono i giochi! Non so chi è, nessuno mi ha detto questo. È lei Opal? Koch Media? Io continuo a dire Koch Media, non mi interessa. Cioè, possiamo dire anche Koch Media, poi è uguale? Mi sto già pentendo, chat. Jerax, sappi. Se mi annoio troppo, ti sacrifico e ti lascio da solo. Come? Io adoro sentire parlare dei giochi, ma non vederli. E Mirai Boy, il ragazzo del futuro, Mirai Boy! Me ne sbatterà qualcosa alla fine di queste due conferenze. Adesso, adesso devo scoprire come si pronuncia, perché è piena le scatole. Google dice Koch Media. Koch Media. Ah, giusto, c'è tecnicamente Horse su schermo, quindi... È un bel nome, Opal. Ma che due Opal? Oh, video! Giochi! Cioè, grafica! Koch Media. Paese che vai, Koch che trovi? Please, dillo, dillo a me. Dice Koch anche lui, d'annunzione! Koch, quale è la mia motivazione? Koch telefono. È Koch, Koch o Koch? Non lo sappiamo. Opal è il mio demone della paralisi del sonno per i prossimi mesi. L'ho già detto, ma probabilmente potrei avere Paolo Meneguzzi come ospite. Oh, me scusa. È perché non posso divulgare troppo, ma abbiamo incrociato le nostre strade. Oh fuck, sono già le dieci! Dobbiamo switchare. Rip. Aspetta, una cagata. È sarcasmo questo. Goddammit. Fuck! Fat Zimomo! Sento già Zimomo che borbotta. Ma come fanno a fare le cose con Switch dove devi mettere le cose nella cartella e poi... Senza la scorrezza, Zimomo è pulito. Possiamo tornare a Hope? Penso che ci serve un'altra pugnalata per essere sicuri. Ecco, ecco, grazie, grazie. Sai, i controller normali non dovrebbero andare a batterie. Lethal, vanno tutti a batterie, solo quelli carichi. Eh, insomma... Ogni tanto, tipo, se esce l'acido... Cioè, lo lecco un po'. Goddammit. Come ha reagito Zimomo a Doki Doki Plus? Oddio, come do mazzo ora. Lo stanno ancora rianimando. Ho visto una colonna di luce provenire da Zimomo mia. Ce l'ho la scommessa. Ci saranno più di tre giochi con Cthulhu? E Octavet... Pompier. Pompier. No, Drago. Ha 12 anni, stop. Yeah, mi diplomo! Yeah, mi... Oh, e dopo? Yeah... È Cthulhu quello? Sono celeste. Ma non ditelo a nessuno. Dai, facciamo conto. Uno, con uno ci siamo. Con uno ci siamo. Death Trash! Il nome è Death Trash. Hanno davvero finiti i titoli. C'è sto tizio nudo. Tentacoli. Tenta... Conta? Eh, facciamo un gioco così. Vedi perché non mi piace Tiny Build? Renditi utile e fai almeno un tentacolo. Hello Neighbor, please. Please, please, Matt, please. Please. Matt, please. Fatto che io ami Shrek, nonostante i noti per la cipolla, vuol dire che il mio amore è genuino. Non dire Koch, please. Ma non voglio dire Koch. È brutto, è peggio. Koch o Koch? Koch proprio no. Goggles ha la voce wholesome, ma il resto non so. Boh, la scommessa per stavolta che volevo fare era molto banale. Se mostrano più di cinque giochi con la pesca. Zero sei qui perché ti sei lamentato l'ultima volta che non ti ho invitato al Wholesome Direct. Fare meglio per cose da dire oggi. Ma se non ho niente da dire, sono fottuto. Goggles può anche fare solo gemiti per quanto mi riguarda. Goggles deve dire aiuto ogni tanto, basta. Yeah, ok, un gioco di pesca? È letteralmente. Sì, è tipo... Il gioco di Monk. Il gioco di Monk, sì. Il gioco di Monk. Monk Simulator. Gli uccelli non sono per forza i migliori animali, ma sono i più wholesome, probabilmente. Saffron Aurora è un nome così figo. Eh, yes! Yes! Lo sapevo! Non ho visto, ha pescato. C'è molto di più da dire su questi giochi rispetto a quelli prima. Drago, e non è colpa mia se non sei wholesome. Forse è stato Drago che avrebbe già detto, Tomo che patati, che patata che è quella. Oddio. C'è l'acqua lì da parte. Yes, yes, ok, 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 tre. Va bene, va bene, conta. Aiuto. Grazie che hai detto aiuto, Goggles. Ah, out today. No, dovevo. Mi stavo impegnando. È molto creativo. Un gioco dove crei cose, è molto creativo. Zero Ice 2021. Oh, la nonna, come on! No, 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 le nonne mi colpiscono sempre il cuore. Un'altra nonna che pesca? Vale per due? Ho trovato una rana, cosa ci farò? Forse me la mangio. Oh, forse è meglio di no. Aspetta, una canna da pesca parlante? Ma non ha pescato? Ha pescato? Ok. Allora siamo a quattro. Uuuuuh. David. Rip, ripissimo. Oh, sì, sì, l'icona. No, non c'è l'animazione. Non c'è l'animazione però, fuck. Deve andare al concilio dei giudici questa cosa. Nulla, guarda che c'è un gioco che si chiama Papperazzi. Oh, è questo, sono scemo. Oh, parla con i pesci questa. Non è possibile. No. Non guardate su, guardate in acqua. È così soddisfacente. No, questo sembra carino. Fai droga con la fa... Ok, no, cucina. Hai droga con la fa... A un certo punto sembrava un bong, sorry. Ok, il pronostico di Ubisoft è... La Rabbid coi capelli neri e verdi. Parlerà? Questo è il tentativo più intenso di Ubisoft di rendere un Rabbid trombabile, secondo me. No. Perché si chiama Penisola invece di, non lo so, quasi Isola? Santo cielo, Jerek. Questo è Far Cry? Sì, è Sposy. È Sposy. È Sposy. Non devono scoprire che siamo fan Nintendo. Perché i fan Nintendo non capiscono niente. La lama react. Quando tagli qualcuno... Oh my god! Uè, bello! Quanto è figo il nostro gioco! Uè, praticamente. C'è questo, c'è la melma. E poi escono i zombie. Che non sono alieni, sono zombie. Dovremmo magari parlare. Perché magari sta musica è sotto copyright. Direi che mi piacciono le chitarre. Vorrei averne una, tanto per apparire figo, anche se non so suonarla. Tu padre interista? Sì, come il famoso film, Mio padre interista. Guarda tutti questi teenage atleta. Le odio. Sono il nostro futuro? Yuck. Luna e Stadia? Quando parla posso lasciarlo, ma non quando canta. Figuro, forse anche la sua voce è sotto copia. Zero K-pop, davvero? 100%! Sono rotte come? È safe mostrare il trailer? Non lo so, non credo. Non ne ho idea. Sto parlando, sto danzando. Sto danzando. No, no, no. È già il DLC. Sono luridi proprio. Meno 50 punti per quello. Luridi. No, non fatelo. Perché? Però... Oh no! Chi ha deciso questa cosa? Nelle immagini ho visto Rabbid Luigi. Davide-son! Oh, è il Vaticano. Vedete quando Francia e Italia collaborano? Invece di litigare? Sì? Oui! Oh, eccola! Parla! Monster Hunter. Certo. Ma Gerak! Monster Hunter! Che strano, Rayman! Ma mi sono annoiato. Ma forse è perché io a voi e Zimomo non ha nessuno. Benvenuti al quiz. Il partecipante, il concorrente di quest'oggi è Mr. Ypsilon Federico 6x6, Fede 36. Fai un suono che consideri carino. Miau! Ok. Come pronunci Koch Media? Koch. Koch Media. Preferisci Batman o Superman? Batman. Mani basse. Yeah. Il Papa sarebbe degno di Mjolnir? Secondo me no. Troppe cose sporche di tuo menino. Ai 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 ai. Quanto sono alti i puffi? 20 centimetri. Non era la risposta che cercavamo, ma l'accettiamo. Credi che gli umani meritino una seconda possibilità? No, no, no. Credi che i pupazzi abbiano diritto a dei diritti? No. La spegniamo questa. Ti sei mai chiesto che succede se prendi l'ombelica qualcuno e tiri forte? No, però adesso sì. Il Nintendo Switch Pro si chiama davvero solo New Nintendo Switch? Secondo me non si chiama nè Nintendo Switch, ma neanche Nintendo Switch Pro. Ho paura che sia un nome stupido. Qual è il Teletubbie più sexy? Tinky Winky? C'è uno viola, quello viola. Non voglio mica la. Matita. Chiedo l'aiuto da casa. Oh, ok. Io chiamo il Tribunale. Salve. Mr. Z. Ti piace la melevisione? Non l'ho... Oddio, penso di averla vista da piccolo ma ho pochissimi ricordi, quindi... Ma è difficile rispondere. Ma ci pigna, ci pigna. Va bene chi lo nega, va bene chi lo nega, infatti guarda un posto ma è una strega, strega. Cosa pensi di chi studia latino e greco? Soprattutto greco è un pochino uno spreco, ma se piace. Sei il giudice di un talent show intitolato Banane Incappucciate. Una partecipante molto attraente, tua coetanea, ti incontra dietro le quinte e ti fa capire che è disposta a sordire tutti i tuoi desideri sessuali se le fai vincere il concorso. Hai la garanzia del tuo spirito guardiano gatto sbuffolo che non ha malattie strane e contagiose, né desidera ucciderti e che nessuno verrà mai a saperlo. Accetti? No. È arrivato il momento clou. Lei è nella doccia, tu ti spogli ed attendi sul letto. Lei esce dalla doccia, lascia cadere l'asciugamano e ti ricordi del perché il talent show si chiama Banane Incappucciate. Come reagisci? No, 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 la fermo. Hai risposto a tutte le domande, congratulazioni, mamma mia. Avete vinto il fatto che l'anno prossimo guardo seriamente Devolver, oppure se vi è piaciuto questo quit posso rifarlo l'anno prossimo con qualcun altro o con domande diverse. Fini che ho il mio maglietto almeno 3 ore. Sì, questo ci spero. Dai, iniziamo. Non dipende da me, quando iniziano iniziano. Non l'hanno detto Game Pass, quindi non conta. Ah, adesso lo dice 20 volte. È incredibile che non l'ha ancora detto. Infatti, secondo me adesso esplode. Schif? Schif? C'è un personaggio che si chiama Schif. Adesso devi comprarlo. No, Schif. Non sorpreso che Disney vi lascia usare quella faccia. Infatti. Tempo di chiamare il mio amico Sora. Adoro pre-alpha e poi si vede roba che non è per niente pre-alpha. Vedi, cosa c'è di pre-alpha in questo? È così se vedono un glitch non gli rompono le palle. Allora, che cazzo vuol dire essere in beta? In beta è quando puoi far pagare la gente. Hanno due cani? No, il figlio, ok. Campagna epica. Olofascista. Dovrei salutare qualcuno con Olofascista. Ok, come si chiamerà? Stop. Si chiamerà? Stop. What? Cosa è sta musica? Cosa è sta musica? Non so, è un opening russa di un anime. Nieto, è un'automata. L'ho rubato da Drago. Drago, hai fatto ridere. Crossover con B-movie. È passata un'ora, manca mezz'ora. No. 2023? Ciao, bene. Vabbè, ciao. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. È bello, ma la torre di Pisa è ancora un cilindro. Sea of Waters. No, è forza. Guarda i dettagli geologici. Sono sassi, Kifs. Sono sassi. Guarda i dettagli. Sono sassi. Ma io voglio vedere incidenti. Vai sulla statale, che ne so. Tutto è Fall Guys al giorno d'oggi. Anche forza. Farei meglio cambiare maglietta due volte adesso. Oh my God, se chiudono con Elden Ring muoio. Sì, ok, shit, ho capito. Red Fall. Che brutto nome. Red Fall. È il free ball. Non devo mettere nel bingo io. Che mi ha detto di me? Lo volevo mettere nel bingo il frigo. Lo volevo un frigo. Vabbè, non spoileratemi cose grosse se potete. Fate solo versi in caso. Un gioco morto. Se esce il 16, fai izi momomomomom. No. Oh, I need a hero. Forse è meglio. I need someone to take me home. Country road. Take me home. È un gioco in terza persona con quattro figli. Cioè, il vostro disappunto anche mi nutrirebbe mica male. Anche se non ve lo auguro. Allora, zi momo. Sei il giudice del concorso banane incappucciate. No, no. Non finisce mai questo. D'ammassato. Io li vedo, li vedo, sono quelli giusti. Ma come Steamobile? Ma faccelo vedere. Solo Steamobile. Lo sa. What? Avengers? Man, io spero che dopo questo c'è tipo il gioco su Ant-Man. Mi alzo e me ne vado. Oh, ecco, Babylons, finalmente. È multiplayer. No. Oh, no. 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 Grazie, Tencent. Developer interview. Ma come? Yes. Live service. È finita. Please, annunciate un concerto alla fine. Please, è l'unica cosa che chiedo. Se Lethal fosse stato giovane, ora non sarebbe stato impossibile. Che fosse stato un VTuber? Non sono bei design. Sono il reject di Final Fantasy XV. Raga, giuro che posso inventarvi un twink funzionale ed originale che non sembri pronto. Assumetemi. E le 3 di Square Enix. Adios. Square Enix devi fallire. Microsoft 3 minuti di gameplay di Halloween Fring. Square Enix 47 ore di Guardiani della Galassia. Con interviste gameplay e 9 trailer. Io vi odio. Ma cosa a Cristo Dio è successo a Babylon Sfondi? Chi cazzo è la colpa? Questa è un'ottima domanda. Cioè, vorrei che il giorno fosse la disperazione di Zimomo Suzumiya. Però... Penso che ha sofferto abbastanza. Non credo ci sia un gioco che ha deluso così tanto come quanto Babylon. Andy. Cyberpunk. Non era così tanto tempo fa. Ehi, c'è persona. Ma non è un bel modello. Sembra che c'è i denti così quando parla. Mi ricorda il picchiaduro di Tom & Jerry per PlayStation 2. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è un picchiaduro di Tom & Jerry per PlayStation 2. Sa tutti i giochi su Game Pass a memoria. Breath of the Wild 2 è su Game Pass. La Divina Commedia è su Game Pass. Mia zia è su Game Pass. Vuoi sapermi una cosa veramente eccitante, ha detto? Ancora? Non si... Scopriamo qualcosa di nuovo da questa conferenza? Ma, probabilmente sì. Eccolo, Greg. I miei avvocati mi hanno detto che non posso odiarlo troppo perché sua moglie aspetta un bambino. Quindi sto calmo. Se lo odi troppo, quella moglie scoppia. Ok, Ferdi, devi dirmi tutti i nomi dei mostri. Quello era un Rattalos. Vabbè, il Rattalos conosco anche io. Ho più Giappone nel mio voto giapponese. Pinguino! Pinguino! Ho dato una chance a Capcom quest'anno, all'anno prossimo lo seguiamo. Ci sarà un all'anno prossimo. In che senso? Voto 7? Ma come voto 7? Voi siete pazzi. Se non c'è tristezza, non c'è bisogno di andare su Twitter. Beh, è vero. Ok, ho trovato odio. Sono contento. Il conferma may not contain any new information. Capcom saving a treat is here. The saving. Oh no, è quella scena di spettacolo. Oh dear, è quella. Capcom è tre, be sure to join the conversation. My job here is the... Oh, colo di sei l'amore. Questa è intramontabile. Capcom, porca vacca, ma di stories due momenti sappiamo pure il titolo di coda. Per gli aggiornamenti di Rai sappiamo quasi tutto. The Grace Attorney. Sapevamo già, i DLC di video e i momenti sono più Vaporwave di Metroid. È Vaporware, non Vaporwave. Il Vaporwave è la musica. Una puta prank deve essere la conferenza di Capcom. XD, Gnassu, Ubu. Ubisoft e 3Square. Monster Hunter 2, Microsoft Earth, Monster Hunter. Finiamo con Yakuza per endito. E questo è quanto, grazie a tutti dell'attenzione per aver guardato questi highlight delle tre di quest'anno, che è stato magari un po' sottotono, ma per motivi comprensibili. Se vi chiedete perché non c'è roba da Nintendo Direct, dovreste già saperlo se mi seguite. Ci sono stati disguidi, mettiamola così. Se vi interessa recuperare gli stream completi, metto la playlist in descrizione o potete anche cercarli sul canale. Lasciatemi ringraziare Kifs, che considero un amico, non so se lui ricambia, ma ha editato gli highlight di quest'anno come ha fatto per, credi, due anni precedenti. Ha fatto la maggior parte del lavoro, io ho fatto solo qualche ritocchino finale. Credo sia uscito bene, abbiamo cercato di tenerlo più stringato anche quest'anno. Così è, diciamo, è comunque un po' più lungo di un video normale, ma dovrebbe essere, credo che sia apprezzabile. Chiudo ringraziando tutti i miei Patreon, in particolare gli Special Ones, Comem, Essere Magico, PolyG, Stricox e UVC e tutti gli altri, anche potete vederli su schermo al momento. Io vi ringrazio della pazienza, prossimamente voglio fare un Sakurai. C'è un Sakurai che è nei piani da un mese, da quando è uscito Kazuya, quindi aspettatevelo prossimamente. Per il resto sto lavorando a progetti miei al secolo di Smash e anche altra roba, grazie comunque del supporto, anche chi non è su Patreon, anche solo guardare e mettere mi piace fa differenza. Bye bye, buona serata, buona giornata, buon tutto.